Allora, sono le 18.50 al Paese dei Barocchi e devo dire che oggi sono molto emozionato Perché abbiamo un ospite che ho desiderato, e Niki parlo per me, molto per due motivi Il primo è che è una star del web, e questo va detto E credo anche una persona indipendente, che non ha mai avuto bisogno di spinte, anzi, secondo me ha spinto altri E poi un secondo motivo più personale, perché la mia sorellina Rebby, ciao Rebby Ciao Rebby La preferita di mia sorella è Sofia Davvero? Sì, e quindi... Una volta gliel'ho fatto un video saluto, vero? Sì, gliel'hai fatto Potremmo farla venire allora oggi Perché non è venuta? Perché a Sora ci vuole tanto venire qua da sola, ho 14 anni Scendo io e la saluto E lei lo sai che cosa mi ha detto? Dai Lollo, fai una puntata con Sofia Grisofulli Dai Cavolo, sono uno speaker forte, eh? Forri, sincero, sì, adesso comincio a fare radio Però oggi inizio io, Lollo, se non ti dispiace con la prima domanda Te la rubo così Vai Su due piedi Vai, certo Ti va di raccontarci un po' come hai iniziato il tuo percorso sui social? Allora, io ho iniziato in tipo, ero piccolissima, a 14 anni Una bambina Sì E io vedevo tipo quelle che adesso sono le big influencer E cercavo di copiarlo un po', ma sempre fallendo sinceramente Perché ho sempre avuto un seguito minimissimo Finino a che poi non è nato effettivamente TikTok Perché prima era Musical.ly Certo E tu hai iniziato con Musical.ly, no? Sì, sì, sì Quindi solo balletti Esatto, sì, era un'applicazione un po' diversa da TikTok E poi vabbè, andando avanti nel tempo è nato TikTok E con TikTok ho cominciato a vedere magari il primo seguito E io ero fomentatissima, c'era troppo dice Magari tipo avevo 6.000 follower Però per me 6.000 follower erano l'obiettivo Un botto Esatto E poi da lì ho continuato La cosa mi è piaciuta un sacco E quindi ho detto ci sta, mi piace E fortunatamente poi nel tempo ha maturato questa cosa E adesso ho il mio bel seguito e mi piace tanto Ma la domanda che mi viene E che anche io, chiaramente non ai tuoi livelli Però ho fatto quello che potevo La mia domanda è Secondo te è questione di tempismo? Cioè perché molti dicono Eh vabbè, forse se avessi fatto Musical.ly oggi sarei una star Io non credo che sia questo di tempismo No, non penso Perché comunque quando mettevo io i video su Musical.ly Li mettevano anche le mie 100 amiche Cioè tutte Poi magari mi ricordo che qualcuna Anche su TikTok cominciava a avere il primo seguito Però non è detto che poi rimani nel tempo Quindi ci sono un sacco di ragazze Che magari hanno fatto il boom Hanno fatto un milione, ok, su Musical.ly E poi su TikTok sarei tutte musicate Guarda io ho anche questa cosa che voglio dirti Vi è pesante? Ti schianti male Eh sì, è brutto Non è facile neanche affrontarlo Poi soprattutto se non solo hai raggiunto uno status sociale Che inevitabilmente ti fa stare bene Ma anche a livello economico Ma Quello che io voglio capire Tu hai capito fin da subito Di poter fare di questa roba Il tuo lavoro, la tua vita? No, da subito no Nel senso che all'inizio per me era un po' come Cioè come dire un sogno Come per dire voglio fare l'attrice Poi magari non sai se lo farei davvero Ok Io non è che nella mia testa avevo voglio fare l'influencer Però avevo molto questa cosa di stare al centro dell'attenzione Eccetera E quindi sono sempre stata un po' egocentrica Però nella mia testa sicuramente non mi sarei mai aspettata Di poter arrivare Poi a fare proprio di tutto questo il mio lavoro Quindi poi piano piano quando ho cominciato a coltivarlo Lì mi ci sono messa di impegno Capito? Ok Hai fatto lo switch Hai fatto lo switch Ok adesso questo diventa il mio lavoro Esatto Però comunque l'ho sempre fatto molto con spontaneità Mentre secondo me le persone che al giorno d'oggi Vedono noi come influencer Iniziano proprio perché vogliono che quello sia il loro lavoro E forse è là proprio il punto debole per non arrivare Esatto Perché se inizi cercando di far sì che questo sia il tuo lavoro Secondo me sbagli tutto Perché alla gente piace tanto la spontaneità E quindi se tu non sei spontanea Vuoi fare tutto solo per soldi, lavoro eccetera Difficilmente riesci ad arrivare a qualcosa Quindi la spontaneità paga? Sì A me ha pagato tanto sì Non so se sei mai pentita Ci sono mai stati degli episodi in cui Non so hai detto ho sbagliato Non voglio più far parte di questo mondo Se tornassi indietro non c'entrerei No Così tanto no Nel senso che comunque non ho mai avuto questa idea in testa di mollare i social Mentre magari tanti altri ragazzi che conosco l'hanno fatto Magari hanno fatto un periodo di pausa eccetera Io no In realtà ho sempre cercato di basare la mia vita Non solo sui commenti negativi Perché molto spesso li ho ricevuti Però sicuramente ci sono stati dei momenti down diciamo Però li ho sempre passati No ma poi il discorso è questo Anche in questo podcast prima di iscriverti Io ho detto cavolo Di Sofia si sanno veramente tante cose Perché sei sempre sulla cresta dell'onda È una cosa che non so se dire Perché no può tipo portare sfiga Quindi se vuoi toccati Però io Cioè credo che questa sia anche bravura E non soltanto gossip eccetera Perché poi il gossip lo puoi trovare no Perché molti possono dire Eh si cerca l'hype eccetera Però io credo che Non puoi vivere di hype Devi avere anche qualcosa Qualcosa da comunicare Io avevo una domanda Sono da poco a Milano da un anno Quindi non ho mai frequentato questo mondo Infatti Guarda lo sa Sono arrivato da poco E quindi frequento poco Sono stato alla festa di Steven Dove c'eri anche tu E c'erano tante persone Che io per la prima volta ho incontrato Casomai uno scambio di messaggi eccetera E quello che voglio dirti Due domande La prima è Se secondo te è cambiato il mondo dei social Soprattutto le interazioni tra voi Tra noi Se proprio devo dire questa cosa E soprattutto Che rapporto hai tu Con questa scena digitale Allora I social sono cambiati tantissimo Perché come dicevo prima Da musicale a TikTok Già c'è stato un cambio radicale E secondo me Sono diventati Molto più tossici Sociale Da questo punto di vista Però sulle persone Magari In generale Che Gala se mi fai un altro video Te lo giuro su Dio Che io non riesco a parlare A me le telecamere Non mettono ansia Metti ansia tu La vista periferica No no ti giuro In sbatti perso Gala non rovinare questa puntata Esatto Grazie Vai via Sinceramente Vai via Comunque Il rapporto che ho Con le persone sui social Secondo me Ho più un bel rapporto Con le persone Che sono sui social Da tanto tempo Un po' come me Forse perché siamo Un po' cresciuti insieme Non solo Gaia Ad esempio Camilla Depandis Non so se sei presente No Comunque è una ragazza Che è partita Con noi Nello stesso periodo Diciamo sempre 2019 Musical eccetera Poi andando avanti nel tempo Siamo un po' cresciuti insieme Quindi secondo me C'è più quel rapporto Vero e solidale Poi Al giorno d'oggi Non lo so È anche difficile Cercare di capire Se quella persona Ti sta scrivendo Perché vuole Non so hype E ci vedrà Oppure perché magari Vuole Cioè è interessata Veramente a conoscerti È un po' un mondo difficile Quindi per te è molto importante Circondarsi Di persone vere Sì Questo è sicuramente Fondamentale Molto 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 importante E tu hai qualche tecnica Per capirlo Cioè Fai delle domande Cerchi di capire Aspetti una settimana Guarda non lo so Io domande cose Non le faccio Perché comunque Mi metterei Magari Batti la testa Non ho voglia Però Ovviamente lo capisco Da determinati atteggiamenti Che le persone hanno con me Non lo so Se magari usciamo La prima volta Ci troviamo bene E poi mi dice Dai facciamo una storia insieme Già lì Già lì dico Ok Però il resto Se comunque Mi trovo bene con una persona Senza la necessità Per forza Di doverla pubblicare O lei Di dovermi pubblicare a me In senso Io sono tranquillissima Poi ci sta Che magari Un giorno Stiamo insieme Facciamo una storia insieme Non c'è assolutamente Nessun problema Però proprio quella cosa Di dire Mi taghi nella storia Oppure facciamo una storia Quello magari Un po' Quello è un po' Un po' fastidio Perché capisci Che casomai Hai costruito Una bella serata Una cosa E poi dici Cavolo Anche lei O anche lui È così Ti smonta tutto Ti smonta tutto E poi ecco Si è sempre parlato Di te e di Gaia Come questa amicizia Storica L'amicizia del web Che non si rompe mai Io Gaia l'ho conosciuta A Porto Cervo E ho vissuto Ho vissuto lei un pochino Ho cercato di comprenderla Dall'esterno E mi sembra Una brava persona Forse a volte Un po' nervosa No? Ho percepito questo E quindi Come vi relazionate? Cioè avete più sbacce? Vi volete bene Ma litigate tanto? No Non abbiamo mai litigato Io e Gaia In cinque anni Abbiamo avuto tante discussioni Questo sicuramente È poi inevitabile Secondo me È un'amicizia Però magari litigate Perché io non posso fidarmi di lei E lei non si può fidare di me No Ok Però ci sono state Tante cose magari Per cui ci scontriamo Questo sì Perché magari A lei non sta bene Un atteggiamento che ho io A me non sta bene Un atteggiamento che lei Certo Poi io sono un po' protettiva Nei confronti di Gaia A me molto spesso Da fastidio Se Gaia va incontro A un problema Perché magari Gaia è molto buona Ok E quindi va magari Incontro ai problemi E io gli dico Gaia svegliati Perché non ti meriti questo Capito? E quindi a volte Magari lei se la prende con me Perché gli dico Non puoi fare questa cosa Chiaro Però È un'amicizia comunque vera Però costruttiva Penso vi abbia fatto Sì sì Questo è bellissimo E poi siamo cresciute insieme Questo è bello Senti invece io immagino Che tu abbia dovuto Anche fare pace un po' Con tutto ciò Che riguarda il mondo Degli haters Cioè per esempio Chi ti dice Ma tu sei bella Solo perché sei rifatta Che è una cosa veramente Becera da dire a una persona Secondo me Come reagisci? Come rispondi a queste persone? Ma in realtà A me non mi interessa Non ci rimani male No allora Ci sono rimasta male in passato E alcune volte Ancora ad oggi Ci sono dei commenti Molto molto cattivi Molto negativi Inevitabilmente Perché sono una persona Sensibile Magari ci rimango male Però sicuramente Non ci do lo stesso peso Che ci davo Quando mi insultavano Mi bullizzavano A 13 anni Cioè che ero sicuramente Un'altra persona Sì adesso Adesso hai altri strumenti Per difenderti Esatto Ma ad oggi Io sono sicura Con me stessa E se a me non piace Una parte del mio corpo Oppure magari mi piace Però me la voglio migliorare Quindi me la voglio cambiare Cioè me la faccio Non mi interessa È che io baso la mia vita In base a quello Che pensa la gente Se Sono d'accordo Le mie unghie lunghe Non piacevano a nessuno E quando Per oggi sono medie Oggi sono corte No Sono cortissime Per oggi sono cortissime Però comunque In generale Quando me le facevo Non è che me le facevo Per piacere alla gente Per esempio Che non piacevano a nessuno Ma a me piacevano così tanto Che me le facevo Hai continuato a fartene Se ne frega Infatti In contrapposizione a questa cosa Cercherò di spiegare Una cosa che penso sull'hating Che ho sempre pensato Allora In economia c'è un bias Che si chiama Effetto gregge O principio di massa Che cosa significa Che le persone Tendono a fare Quello che fanno gli altri Cioè che cosa vuol dire Se io entro su un video di Sofia E ci sono I primi 30 commenti Positivi Allora io dico Ok Mi omologo alla massa Quindi anche È bella Bellissima Sei bellissima Se io entro sul video di Sofia E ci sono 30 commenti Negativi Sei rifatta Non sai essere madre Questo è un tema Che voglio trattare Perché io non so come fai Io ti seguo Ti seguo attentamente È una cosa che io odio Quello che ti dicono a volte E questa è una cosa interessante Su cui tra l'altro Io basai Il mio personaggio Quando è nato Sfruttando proprio questa cosa Cioè l'hating ti porta Devi essere poi pronto Ad affrontarlo Perché è chiaro Tutti vogliono poi Avere la visibilità Ma poi quando ti insultano Che fai? Mica te la vuoi prendere Con gli altri Ormai stai dentro quel gioco Sì ma infatti Secondo me È una cosa che devi accettare Nel momento in cui Tu entri sui social E capisci di essere Un personaggio pubblico Poi non è che Se tu Un giorno Ti svegli Con un milione di fallori Allora sei obbligato Ad accettare gli insulti È obbligato ad accettare Le persone che ti seguono Cioè puoi anche Prendere e cancellare I tuoi social Esatto Non è che sei obbligato Però comunque Penso che Bisogna dare anche Un certo peso Non troppo grande Alle persone che ti insultano Perché quello che ho sempre Percepito io È che una persona Può fare il leone In la tastiera Quanto vuole Ma nel momento in cui Te lo incontri davanti Non ti dice mai nulla Mai Io sono convinto Letteralmente Letteralmente mai Infatti Ma ti è successo? Sì ma Cioè per dirti Ma è successo Quattro giorni fa Che ho fatto una serata E la gente Per venire nella mia data Paga Una prevendita Entra Cioè come ospite Come può esserci Qualsiasi altro ospite E io Mentre stavo parlando E salutando al microfono C'era la gente sotto Che acclamava Uno diceva Vaffanculo Oppure mi insultava Cose no E cioè poi Io ho postato il video La gente Ha sentito Quello che Questa persona diceva sotto E ho detto Ragazzi ma a me Cosa può mai interessare Di una persona Che ha pagato Per venire a un mio evento E mi insulta Cioè fai tu la figura brutta Perché tu hai pagato Per vedere una persona Che non ti piace Vai lì ad insultarla Sei irrazionale E poi viene davanti a me Magari Mi chiede anche la foto Capito? Non è capace di dirmi Gli insulti Che magari mi dice al telefono Ho visto tipo Un video di Eletta Lamborghini Che durante un concerto C'era un pazzo criminale Che la insultava Con parole pesantissime Lei ha bloccato il concerto Il tipo gli ha detto Adesso vieni qua Me lo dici in faccia Davanti a tutti Eh ma non è capace Panico E' per avere anche approvazione Essendo tu il nulla Perché poi Volemmo essere sempre Perbenisti Però essendo tu un puntino E riconoscendo a Sofia In questo caso Un ruolo di Leggera superiorità Parlo tecnicamente Di superiorità social Non superiorità di persona Perché se no poi Mi criticano Devi trovare il tuo spazio Con i tuoi amici Devi trovare questa cosa Come quella storia Di Mischilla Che incontra una fan Che le chiede la foto E il tipo ci dice Ma chi è questo A cui hai chiesto la foto E poi Mischilla dice Ma veramente non sai chi sono Tipo vai su Instagram E vedeva che lo seguiva C'è roba che tu Per trovare il tuo posto Nel mondo Devi screditare l'altro Fai ridere Sincero fai ridere Ma infatti Quello che dicevi tu prima Cioè dei commenti Che quando sono 30 commenti negativi Cioè la gente dice Ok io commento un commento negativo Così la gente mi mette like al commento Bravo Fighissimo Oddio Sono diventato O tremila like al commento O tremila like al commento Le persone vivono malissimo Poverini Io con le astrite Perenne E io pensavo fossero piccoli Invece No molto spesso Ma ragazzi ma Io con mia sorella ho fatto No quel format Con mia sorella molto ironico Che ha avuto Tante visualizzazioni No Cioè è stato comunque Riconosciuto a molti E io a un certo punto Ho avuto paura Perché c'erano persone adulte Che veramente facevano commenti brutti Su mia sorella Ma brutti ma Cioè come fai a colpire una ragazzina Che ha l'apparecchio Che ha 13 anni Cioè per me Per me è pesante Cioè io non ce la farei mai E pensa Io le stesse cose con mio figlio Che ha un anno Che dico Cioè ma come fai Un bambino di un anno Sì sì Tra l'altro tu hai creato Un profilo social per tuo figlio No? Sì 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 Anche su quello Anche lì C'è stata tanta Tanta polemica Però comunque alla fine Io sono dell'idea Che qualsiasi cosa farai Sarà sempre sbagliata Sempre Cioè Qualsiasi Veramente Puoi anche fare Un atto di beneficenza E mettere E dire Guardate ho donato Totsoldi a quest'ente benefico E la gente ti commenterà Ah l'hai fatto solo Perché volevi metterlo su social La beneficenza si fa in silenzio Cioè Poi se la fai in silenzio Ah ma non l'hai condiviso Invece dovresti condividere Delle cose belle È così Allora Ma secondo me Hater ci nasce C'è proprio un indole Io non potrei mai commentare Una cosa Cioè una cosa negativa Sotto la foto Di una persona Cioè lì proprio Non hai la percezione Dell'altro Cioè Cavolo Sono persone annoiate Secondo me Che ti ripeto Per avere un attimo Di visibilità Un attimo di quella cosa Commentano negativamente Però A me viene solo Da dire poverini Nient'altro No infatti Sì sì Che pena Ma poi c'è Non so Ne parlavo prima Con Nicola Fuori Mi parlava Che tant'è me lo sono segnato Che c'è stato un influencer Di cui non faccio nome Che se non erro Confermami In una canzone ha detto Incinto per sbaglio Come Sofia Grisafulli Questa roba qui Elegante Delicatissimo È corretto Ho segnato bene Lei era corrente Di questa cosa qua Sì Ma è uscito poco fa È uscito poco fa Ma io questo cantante L'ho conosciuto Lui Capito Chi dico Sì 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 Però in realtà Io ho sentito Questa canzone La prima volta A number one Ok Che l'avevano pubblicata Ho sentito il mio nome Ho detto ma che cos'è E lui è venuto da me Mi ha detto Sofia Sofia guarda che io Ho messo il tuo nome Con Giamma In una canzone Così volevo rassicurarti Che non è niente di male Non volevo Infatti io pensavo Mi attaccasse In realtà poi mi ha detto Non volevo attaccarti Anzi Io ho discusso Con il Masseo Che non so se avete presente Chi sia Sì sì certo Ma comunque Mi ha distato Non lo so Che ha detto una volta Dicendo che io ero incinta Per sbaglio Ops scusate Che io ero incinta Per hype O per sbaglio Come l'abbiamo messa Lui giù Non lo so E quindi lui Ha tra virgolette Riportato questa cosa Però non era niente di negativo Che anzi mi seguiva Ci seguiamo sui social Quindi è super easy Ecco vedi Ecco questa è una cosa Che a me piace fare nel podcast Abbiamo avuto questa Discussione prima? E mi piace che sia chiarita E non creare ulteriore Negatività sulla cosa Ma in realtà È il Masseo Che ha creato tutto questo E io so benissimo Chi è Ma non l'ho mai conosciuto Quindi questa cosa Di insultare Un po' anche Dire la sua Non so come voglia Metterla giù Pubblicamente Denigrando un po' Una persona che non conosci Non ne trovo La utilità Poi è stato detto Che io Ho insultato il Masseo Dicendo che è famoso Solo perché bestemmia Ma io in realtà Non l'ho mai detto A me A me mi hanno chiesto Cosa ne pensi del Masseo Che è famoso solo bestemmiando E io ho detto la mia Ma io non l'ho mai detto Ti hanno manipolata Esatto Ma questo è un problema serio Poi però la gente va a dire Cioè Prende magari Prende degli spezzoni E TikTok Su questo grade problemi Perché non contestualizza Esatto Escono solo clip Esatto Escono solo clip Pezzettini E quindi magari Tu hai detto tutt'altro Un discorso lunghissimo Loro prendono un micro pezzettino Del discorso Dove sembra Dove sembra Che dici tutt'altro Ci mettono una scritta Grandissima sopra E quindi tu sembra Che hai detto tutt'altro Certo Io in realtà Non ho niente Cioè io non odio nessuno Non ho niente contro nessuno Io il Masseo non lo conosco Cioè magari domani Mi appare davanti al McDonald's Facciamo un pranzo insieme La persona più simpatica del mondo Ma non lo posso sapere Per quello non mi sono mai permessa Di dire niente di male su nessuno A meno che non mi abbiano fatto un torto Un torto O comunque una persona che conosco Con cui ho discusso Lì magari mi succede Di far male Tra virgolette No ci sta No no però è Sono d'accordo Invece parlando sempre di te Delle cose belle che hai fatto Tu hai scritto anche due libri no? Sì Non li ho scritti io Però comunque sono usciti due libri miei Sì Ok Dove parli della tua gravidanza Di tuo figlio Sì 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 Cosa ti ha spinto a farlo Non sono esigenze Hai sentito Allora Il primo l'ho scritto Cioè poi ripeto Non l'ho scritto Prima che poi la gente mi dice Non l'hai scritto Ah tu non sei Non l'ha scritto Non l'hai scritto Non l'hai scritto No Me l'ha scritto una ghostwriter Cioè una persona proprio apposita Che quindi ho raccontato la mia storia Nel frattempo la scriveva E metteva giù il libro Poi ovviamente io Guardavo ogni singola Ogni singola pagina Ogni singolo capitolo E cercavo di capire Se c'era una frase Che mi andava magari meglio Di un altro eccetera Quindi poi veniva modificato Insieme a me Però proprio la scrittura del libro Io ammetto di non esserne capace Proprio che non saprei farlo Niente di male È un mestiere Esatto Esatto E comunque no È stato molto bello Scrivere il primo Perché non mi era mai capitato Di fare un'esperienza simile E l'ho scritto perché Volevo raccontare meglio la mia storia Ok Del mio percorso Della gravidanza E tutto E magari farlo con un video TikTok Una diretta Una storia Un post Non sarebbe rimasto così tanto Come mi sarebbe piaciuto Invece un libro Cartaceo Comunque che Tra dieci anni Mio figlio può andare a ricomprarsi E può leggerlo dopo scuola È più Vederlo su carta Esatto Tutto un altro effetto Poi il secondo è stato un po' La conseguenza Cioè tutti mi hanno chiesto Fai un secondo Fai un secondo Fai un secondo E quindi li ho un po' accontentati Però ovviamente con piacere Raccontando poi il continuo della storia No ci sta Poi ecco Voglio farti questa domanda Che è un po' più legata al business Poi casome ne parliamo Perché in pochi lo sanno Ma io sono insomma Laureato in economia Ho diverse società Vere Non fuffa come molti Ho questa domanda Chiaramente è stata anche una Grandissima mossa Di business no Sì Non che ti ha mosso Non che ti ha mosso Ma lo è Cioè come Non credo che tu Quando hai iniziato su music Li pensavi di Viverci no Però poi è diventato il tuo business Ovvio Ecco È stata una buona mossa Uscire con il libro Da un punto di vista economico Allora Diciamo che È stato Sì Tra virgolette buono Però non l'ho fatto Per il punto di vista economico Certo Nel senso che comunque È una cosa che avrei fatto a prescindere Bene Secondo me Anche se non avessi preso un euro L'avrei fatto lo stesso Perché è proprio una cosa Che mi faceva molto piacere fare Però comunque sì È stata un'esperienza È stato anche Sì poi Ben retribuita Mi è piaciuto Quante copie hai venduto? Nel primo Tantissimissime E per quello che Mondadori poi Effettivamente mi ha chiesto Di scrivere il secondo E avendo anche il Come si dice L'approvazione Del mio pubblico Comunque della gente Che mi seguiva Ho deciso di farlo Però al momento La cifra esatta Non la so Poi non devo cercare Cercare Però comunque Ne avevano vendute Veramente tante Secondo me Poi il secondo Ne ha vendute meno Perché poi secondo me È chiaro Il primo È un po' la novità Capito? Perché se fu l'ha fatto il libro Ok E quindi sicuramente Ne ha vendute molti di più Secondo secondo me Un po' meno Però A dire il vero Mi è piaciuto molto di più Scrivere il primo Che scrivere il secondo Ecco vedi Anche questa consapevolezza Molti potevano anche Vivere male No? Questa seconda vendita No 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 Io me l'aspettavo Cioè in realtà Io non mi aspettavo neanche Che il primo facesse così tante vendite Ma posso Per avere un'idea Ma più di 50.000 copie 70.000 copie Non so che non ne ho idea Ok Perché io non immagino Quanto siano Quelle possibilità di vendita Perché me l'avevano detto Al tempo Soltanto che poi Dovrei richiedere adesso Perché mi appaiono anche Molto spesso delle storie Di persone che lo comprano Ancora ad oggi No no certo Quindi dovrei chiedere Ad oggi quant'è Questa è una cosa Soprò interessante E io mi ricordo che al tempo Quando avevo chiesto io Che comunque era uscito da pochi mesi Erano sui 20.000 copie Wow Ora non ne ho la più valida idea E hai ricevuto più critiche Più complimenti Cioè le persone hanno apprezzato No in realtà Io sul libro Ho ricevuto tanti complimenti Mi ha fatto piacere Diciamo che in quel periodo Non mi sono neanche tanto Concentrata sulle critiche negativi Cioè sui commenti negativi Cioè non mi interessava Era una cosa che mi piaceva Talmente tanto fare Di cui ero molto contenta Che a me Cioè dei commenti negativi Mi fregava niente Erano sempre gli stessi Certo Un influencer Che scrive un libro Eh ma cosa avrei da raccontare Eh ma non sei una scrittrice Ok Ok Non prega niente Non prega nulla Quindi sinceramente no Non mi è mai interessato Ho più Guardate commenti positivi Allora io direi che È il momento di aprire Questo nuovo argomento Che sono le frequentazioni Ex eccetera Purtroppo lo so A volte lo dicono Anche in altri podcast Però Vorrei entrare un po' Più nel profondo E dare anche no Delle spiegazioni A chi guarda da fuori Di alcune cose Che poi vengono viste E vengono anche travisate Ok Innanzitutto Agostino Ok Ok Non lo conosco Non vedo che molte persone Giudicano tantissimo Questa relazione Io non so come fanno Perché io non riesco a giudicarla Perché non conosco Però gli altri lo fanno Ok ok Voglio capire Ma in che rapporto siete Se torneresti con lui O come Allora Il nostro rapporto Questo non l'ho mai spiegato In realtà È sempre stato molto Non so mai spiegare Tira e molla Ok Perché tra di noi C'è una fortissima attrazione Ci vogliamo In fondo Cioè oltre Prima di amarci Ci vogliamo veramente Un bene dell'anima Nel senso che Io mi auguro per sempre Il bene per lui E lui se augura il bene per me Non arriverà mai Il momento in cui Ci odieremo Però ci sono state Tante volte Tante situazioni Che ci hanno fatto Magari Non sopportarci a vicenda Ok Quindi molto spesso Abbiamo detto Non ce la facciamo più Lasciamoci E ci siamo lasciati Molte più volte Di quante ne abbiamo dette Sui social E già sui social Mi dicono Vi siete lasciati 1200 volte Vi siete rimasti 1200 volte Cioè voi sapeste Tutte le volte Che siamo lasciati rimasti Vi metteraste le mani Nei capelli E molto spesso Questa cosa viene criticata Perché dicono Eh ma voi avete un figlio Io mio figlio E nemmeno lui L'abbiamo mai messo In mezzo alle nostre discussioni Non c'è mai stato Neanche un momento In cui discutevamo Davanti a lui Per dire Bello questo Ma mai Cioè ma perché Io in primis Ho vissuto Con dei due genitori Separati Che prima di separarsi Effettivamente Discutevano molto E questa cosa Io la soffrivo tanto E poi ovviamente Loro si sono scusati Con me Però io Avendolo vissuto Non lo farei mai Vivere a mio figlio Mio figlio è una persona Cioè un bambino Veramente super felice Super contento Di stare sia con me Che con lui Quindi Non gli toglieremo mai Questa cosa Che se ci lasciamo Non stiamo Cioè lui non sarà Sarà meno con me O sarà meno con lui Cioè assolutamente no Cioè è intelligenza questa Ci sono i genitori Che addirittura Il padre parla male Della madre Ma assolutamente no Cioè questa cosa Ovviamente adesso ha un anno Quindi non la capirebbe nemmeno Però Allo stesso tempo Lui non è mai cambiato niente Nel senso che comunque Vede allo stesso tempo Me e lui E comunque ci sono anche Tante situazioni In cui magari stiamo insieme Con il bambino E stiamo insieme Per il bambino Certo Quindi perché comunque È bello magari vedere I genitori felici insieme Poi ripeto Non ti so rispondendo La domanda Cioè adesso Adesso Come state Che rapporto state Siamo sempre Cioè ci sono In quel tira e molla In quel centro Cioè c'è sempre Un periodo in cui Siamo sempre Sempre insieme Poi magari capita Il periodo in cui Neanche ci parliamo E poi il periodo in cui Intra Cioè siamo tranquilli Nel senso Ognuno per le sue Quindi diciamo Quando vi lasciate Per incongruenze caratteriali Non perché non vi amate No esatto Esatto Ma perché Più che altro Non andiamo d'accordo Ok Nel senso Ci sono tanti lati Del suo carattere Che a me non piacciono I tanti lati Del mio carattere Che a lui non piacciono Poi conduciamo Magari anche due vite Molto diverse E magari a lui Non piace il mio stile di vita A me non piace Sono tante cose Cioè nel senso che Lui è un po' più tranquillo Cioè tu vivi Una vita più dinamica Esatto Molto di più E lui è una persona Molto più tranquilla Ok Posso dire una cosa Certo Due La prima è che penso Io credo che Agostino Non mi permetto poi di giudicare Perché se no faccio La fine degli altri Io credo che lui Prima di te Non aveva un'esposizione Mediatica molto forte Giusto? Zero Lui voleva anche Eliminare Instagram Quando l'ho conosciuto Ecco Quindi secondo me Ci sono due problemi Il primo Che dentro te Vivi una persona Conosciuta da molti Che non è solo tua Ovvio Questo è un tema Che io veramente Penso Cioè quella persona È un po' di tutti Scusami se passo No 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 Ma assolutamente Io concordo Questa cosa qui Che può colpirti E può farti sentire Un pochetto insicuro Poi lui non lo sarà Io mi metto nei panni Suoi a volte Non so Penso questa cosa E poi un'altra Riguardo come trattate Vostro figlio Mia madre mi dice sempre Che alla fine I figli sono lo specchio Dei genitori Tu pensi di essere Lo specchio Dei tuoi genitori? No Cioè dipende Alcune volte Mi ritrovo tanto In mia mamma Altre volte Mi ritrovo tanto In mio papà Dipende dalle volte Dipende dalle situazioni Però comunque Io adesso ad oggi Non posso dirti Se Tiago è lo specchio mio O di Agostino Nel senso Di faccia Sono una fotocopia Poi nel carattere Non lo so Nel senso Lo scopriremo nel tempo Però comunque Con Agostino Secondo me La cosa è che ci sarà Sempre rispetto Tra di noi E che non ci sarà mai Quell'odio Che Io riconosco Di aver sbagliato Magari L'anno scorso Quando ero in gravidanza Che magari commettevo Degli sbagli Perché Ci discutevamo Talmente tanto spesso Che io molto spesso Ributtavo le discussioni Sui social Ok E questa cosa L'ho sbagliata E lo ammetto Un po' per esorcizzare Molto spesso Quando discutiamo Quando ritorniamo insieme Cioè sto zitta Sto per i fatti miei Vedo sempre poi Come andranno le cose Perché può essere Che facciamo tre mesi Da Dio Che stiamo benissimo Meravigliosamente Dopo tre mesi Che non ci sopportiamo Non ci possiamo vedere Montagne russe Esatto Però comunque La cosa è che Staremo Ci rispetteremo sempre Secondo me Questo è bellissimo Vi stimate a vicenda Cambia l'opinione Che avete uno dell'altro Nonostante magari Non siate compatibili Caratteri Esatto Però io Sto sempre felice Per lui E i suoi traguardi Bellissimo Insomma Sei contenta Di avere un figlio Con lui Sì Tornassi indietro Tornassi indietro Non ti direi mai Non lo rifarei Capito Ma assolutamente Ok Avete anche I tatuaggi insieme No? Lui ha Tre tatuaggi Per me Ok Non li ha cancellati No No Cioè allora In realtà Io su due Non sono convinta Che siano per me Però Perché c'è quella storia Di S No Santana Perché lui ha un S Sul collo Ok Che però È la stessa S Di Santana Che è un po' Il loro simbolo Capito Quindi lui mi ha detto Che l'aveva fatto per me Però io non ci credevo E quindi secondo me Era per Santana Poi si è fatto Due C sulla mano Che però erano due C Incrociati Quindi per me È il simbolo di Chanel Però lui dice Che sono i nostri due cognomi Perché iniziamo con Cici Tutte e due Non lo so Poi si è attuato la mia faccia E lì non ho potuto dire nulla Non potevo dire nulla E secondo te se li coprirà? No 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 Non penso proprio No ma perché Anche dopo che ci siamo lasciati Mi stai coperti tatuaggi Ovviamente non me li coprirò mai Cioè alla fine rimarrò sempre Sei comunque la madre del figlio Capito Anche io Se avessi avuto Cioè io Questo Si vede? Che c'è? Amor vincitomnia L'avevo fatto in un Cioè non è che è per Agostino Però è per la nostra situazione Perché Lui una volta mi aveva detto L'amore vince su tutto E questa è la stessa frase Ok Quindi io l'ho fatto Per me ha un significato molto importante Poi ovviamente non è che mi sono scritta Agostino Agostino però è per lui È associato a quel ricordo È associato a quel ricordo Quello sì Quello sì è associato a quel ricordo Però è una frase che io penso in generale Cioè nel senso L'amore vince su tutto anche con mio figlio Con mia mamma Cioè è una frase che per me è molto significativa Bello Però comunque Anche con lui è sempre stato così Questa frase Voglio mettere una piccola parentesi No? Perché molte volte si Tende a superficializzare Persone che lavorano con i social Ma io credo E certamente Forse tu sei 2000 Sì E io sono 2000 Quindi non posso sicuramente parlare Però cavolo Il contenuto è alto Cioè Le persone banalizzano I personaggi che sono dei social Per me è sbagliato Per me Bisognerebbe capire E spero che questo podcast Possa riuscire a far arrivare un po' Dipende Perché la gente avrà sempre Un occhio storto Secondo me Quella dice così Perché gli fa comodo Dico no? Può adarsi Alcune volte così Oppure alcune volte dicono Sì lei dice così Però ha fatto questo Capito? Quindi vanno sempre a vedere Un uomo Sempre sentire quello che vuole sentire Vedere quello che vuole vedere Esatto Quindi Non puoi farci niente Infatti a proposito di questo C'è stata tutta la tematica Allora Innanzitutto ho una domanda Ma tu Dopo insomma Aver partorito No? E dopo la rottura con Agostino Tu hai avuto altre frequentazioni Che non hai comunicato? No No Allora io Dopo aver partorito Sono rimasto Cioè Noi ci eravamo lasciati Ad aprile Del 2022 E io ho fatto Ad aprile Fino a dopo il parto Quindi dopo Fino a novembre Una roba del genere Che non stavo con nessuno Non mi frequentavo con nessuno Non ho visto Sentito nessuno Poi vabbè Ero in gravidanza Quindi Era un po' complicato Ma anche dopo il parto In realtà Non ho mai sentito nessuno Poi a novembre Sono tornata con lui Poi siamo stati insieme Ci siamo rilasciati Poi a settembre E Il famoso dire molla Esatto Il famosissimo dire molla Ti ho fatto questa domanda Perché c'è stata tutta la tematica Steven Che Scusami se te la Guarda ti chiedo scusa Perché so che te l'hanno chiesta Mille volte Quindi Io Tra l'altro Ero alla festa di Steven Mi sembrava insomma Tutto molto normale Goliardi Una sera normale Ma C'è stato qualcosa O hai pensato Mimilamente ci potesse essere qualcosa No C'è stato un rapporto No Allora Sicuramente Da quello che è uscito Sui social È sempre sembrato Come se fosse Chissà che cosa Secondo me E Eravamo letteralmente Brilli Entrambi Se non posso dire Qualcos'altro Però penso che la gente Possa capirmi E io Ho specificato più volte Che non ci fosse stato un bacio Ma perché Veramente Io mi ero spostata Quando lui mi stava parlando All'orecchio E Era una situazione Un po' complicata Ti posso dire così Ma non c'è mai stato niente Tra di noi Nel senso Io gli voglio bene Lui mi vuole bene Ci vogliamo bene Siamo andati in vacanza Con lui Appunto A Dubai Però non è che eravamo Sì A Dubai Però non eravamo Io Gaia e Steven Cioè no C'era comunque C'era Rosso C'era Voro C'era Max C'erano I suoi amici È stata una vacanza di gruppo Lui non ci ha mai provato Ecco Lui nei tuoi confronti Secondo te ha provato Anche se non ci ha provato Ha provato qualcosa Qualche infotazione Non penso proprio Cioè no Assolutamente Secondo me È stato più visto Sui social Capito Nel senso I social L'hanno pensata così Perché Due ragazze Che vanno A Dubai Con Steven Basalari Poi mi aveva regalato Un anello Ma aveva regalato Anche l'anello La Gaia Solo che la gente Non vedeva quella cosa Vedeva Ah ha regalato l'anello La Sofia Perché io l'avevo taggato In una storia Mentre lui l'aveva detto In una diretta Twitch Ok Che aveva regalato Tutti e due E io Quando ho fatto la storia Non è che l'ha regalato Anche a Gaia Però cioè Non è che andavo a pensare Che la gente potesse essere Così ma di Maiziosa Ma è chiaro Forse un anello Può far pensare male Però io avevo capito Questa cosa Però l'anello Ve lo giuro Cioè l'ha detto anche lui Può confermarvelo Chiunque Ha regalato anche a Gaia Era una cosa Così simpatica Ma non è stato Puoi sposarmi Ma secondo te Secondo te Lo sai Ma il valore di questo anello Si può sapere Eh non lo so Beh sicuramente Te lo giuro che non lo so Però è un buon valore Immagino no Non lo so Io lo giuro che non lo so Perché io Quando lo stavamo comprando Era un diamante C'è un anello No quando lo stavamo comprando A parte che io Non me lo chiedete Perché non ho idea Però te lo giuro Che quando lo stavamo comprando Sono di Pandora Non mi chiedere niente Di questi anelli Ok Però quando lo stavamo comprando Gaia aveva preso Tipo prima una collana E poi avevamo preso Questi anelli Però avevano fatto tipo La somma di tutto Non so effettivamente Quell'anello Quanto costasse Ok Però Penso che sia Ma tra l'altro Ha fatto un incidente Steven no? Si ho visto A Miami Ah brava Tutto bene? Si si Io ho visto che Stava bene Comunque che non si era fatto Niente di male Speriamo Tra l'altro non guidava Lui era tipo su un Uber Un Uber si Bravo questa notizia Vabbè Purtroppo queste sono cose Meno male che ha dato tutto bene Esatto Senti Cambiando discorso Steven Che ripetere Non c'è mai stato niente Mai ci sarà niente Ci vogliamo bene E rimarrà un tanto bene Tra di noi Friends qual è la camera mia? Quella Ciao Steven È vero che nel 2019 Hai avuto una frequentazione Con una ragazza? Sì Allora Io nel 2019 Ero una bambina Secondo me Cioè ero molto Ingenua Ok Hai sperimentato Esatto Cioè era una cosa che dicevo È la novità Ok Ad oggi Se mi dici con quante persone sei stato Non mi viene neanche in mente Di dire che sono stata Con questa persona Perché Per me è stata più Un provare Ok Ed è durata pochissimo Cioè nel senso Per me è una relazione Che è durata un po' È stata sei mesi Ok Poi un'altra Ne è durata magari due anni Come questa Due anni e mezzo Però anche sulla frequentazione Che è durata un mese Due mesi Cioè non ti reputi Bisex No 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 Assolutamente Anche perché Per me è stata Un'esperienza per dire Lo rifarei Mi piacciono le ragazze No Non mi piace Non hai mai più provato Attrazione verso un'altra donna No 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 E poi vabbè Nel senso Quando ho avuto Quella mini frequentazione Non era neanche una donna Per dire come Te Ok Che sei comunque Molto femminile Molto carina Cioè nel senso Era Si chiamava Tomboy Non so se sei presente Che cosa significa Era mascolina Si Molto Ma i capelli corti Capito Sembrava più un ragazzo Capito Ho sempre pensato Che se mai avessi una storia Con una donna Mi piacerebbero le donne mascoline Esatto Esatto Ma le donne femminili Non ci potremmo andare E vabbè ma è chiaro Ma poi soprattutto Una persona egocentrica Esatto Come fa a stare con la ragazza Ragazza femminile Secondo me dà un po' Quelle aree di scontri tanto Esatto Ma Però no Non fa per me Per me è solo una questione fisica Proprio Cioè Ah Magari mi attizzerebbe di più Una donna Col capello corto Un po' maschia Forse perché ti piacciono i ragazzi Eh capito Anche per me era così Solo che al tempo A tipo 16 anni Non lo capivo Capito Vabbè ma è chiaro Cioè non era per me più Provare e dire vediamo Sai Io parlo moltissimo Con mia sorella E mia sorella Per farti capire È proprio Cioè Non è come me molto timida No E c'è stato un momento In cui Gli ho chiesto Sentirebbe Ma tu ci pensi A questa roba qui Perché Lei mi ha detto Che è nella sua classe Insomma ci sono Ma anche nella sua scuola C'è un numero Più più Un bel numero Di ragazze No Che si frequentano E io ho chiesto Parliamone Ma secondo te Ti posso piacere Le ragazze E lei Proprio uno Non lo so Non mi domando su questo Se mai mi dovessero piacere Questa è la risposta sua Se mai mi dovessero piacere Te lo dirò Ecco però C'è un'età Secondo me Dove te lo devi domandare Io avevo scritto qui Stato sentimentale attuale Mi ero segnato Ma non te la faccio Questa domanda Perché sei stata Abbastanza chiara Sì 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 Abbastanza chiara Quindi vabbè Vogliamo parlare della famiglia Sì Vai va bene Che rapporto hai con i genitori? Allora Io con i miei genitori Ho un bellissimo rapporto Ad oggi Ma riconosco Di aver avuto un rapporto Molto 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 complicato Conflictuale Sì tantissimo Cioè ci sono stati Dei periodi in cui Io odiavo i miei genitori Cioè proprio Io li ripudiavo Magari C'è stato un periodo In cui Più mi scontravo Tanto 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 Con mia mamma E altri periodi In cui mi scontravo Tanto tanto con mio papà E con mia mamma Quando ero più piccola Proprio C'è stato un periodo Che mi ricordo Non ci capivamo Ok Non riuscivamo Ad andare d'accordo E io mi ricordo Che avevo fatto Un periodo di tipo Due mesi interi A non parlare Con mia mamma Ed ero andata Libera a casa Di mio papà E questa cosa Ad oggi La vedo Perché sono separati I tuoi Sì sono divorziati Dal 2012 Ah beh Quindi Tu avevi Otto anni Nove anni Sì nove anni Nove anni E quindi questa cosa Probabilmente perché Ero molto ingenua Anche lì Ero piccola Era nel pieno Della mia adolescenza E io sentivo Che i miei genitori Non mi capivano Ok E quindi questa è una cosa Che ad oggi Vedo anche tanto Sui social Che tante ragazzine Vivono lo stesso Che ho vissuto io Tanti anni fa E dico È normale Poi le cose si sistemeranno Nel tempo Però io mi ricordo Che Tu sei l'80% Degli adolescenti Esatto Si sente incompresa Dal mondo Esatto E io perché Mi sentivo incompresa Cercavo di attirare L'attenzione In più modi possibili Immaginabili Cioè io scappavo di casa Cioè io una volta Mi ricordo che ero Scappata di casa letteralmente E avevo spento il telefono Avevo scritto un messaggio A mia madre Dicendo non cercarmi mai più Ok E c'è proprio Drama qui Dove era andata Te lo ricordi? Eh certo che me lo ricordo Perché poi Mi sono venuta a prendere i carabinieri Io mi sono ritrovata in questura È stata una delle scene Più assurde della mia vita No raccontami meglio Allora praticamente Io dato che mi scontravo tanto Con mia mamma In quel periodo E anche con mio papà Non li volevo vedere Ok Io ci litigavo tanto Perché mia mamma Io non abitavo a Milano prima Abitavo un po' fuori Milano E mia mamma mi aveva detto Che doveva venire Cioè doveva venire a vivere a Milano E gli avevo detto No Io non vengo a vivere a Milano Mi interessa E non voglio venire Perché avevi il tuo gruppo Le tue cose Esatto Avevo la mia scuola Il mio gruppo E i miei bambini Che le fanno Eh Sofia però Dovevamo trasferirci là Perché comunque Giustamente per il lavoro Perché aveva preso la casa E tutto Non è che poteva stare Ai capricci di sua figlia adolescente Ci sta E quindi ho detto Va bene Ok Allora io da oggi sparisco E io Ho preso Sono andata a scuola Gli avevo detto Che andavo a scuola E avevo il telefono All'1% Gli scrivo un messaggio Tipo un papiro Dove gli dicevo Che non mi avrebbe mai dovuto più cercare E io abitando ancora fuori Milano Mi sono andata a Milano In Pullman Senza un euro Nel portafoglio Cioè zero Non avevo niente Poi ero andata là Con una mia amica La mia amica Poi se ne doveva andare A un certo punto Quindi sono rimasta da sola Senza telefono Senza niente Cazzo Ok A Milano Io mi sarei cagata addosso Con un genitore Tipo la popol panico Aspetta E io Cioè mia mamma Pensa che aveva visto Quest'ultimo messaggio Ma poi anche se mi avessi chiamato Io avessi voluto rispondere Manco potevo rispondere Perché non avevo il telefono Non avevo niente Io a un certo punto Vedo che la mia amica Se ne è andata Io devo andare da qualche parte Quindi io torno indietro In un pullman Che non ho pagato E poi mi ha detto Ti devo mettere la multa E io va bene Mandami la multa a casa Io gli ho andato Cioè gli autoginomi Mi attivo eccetera E ha cominciato a piovere Cioè proprio a diluviare E ho detto L'unica cosa che posso fare È andare a vedere Se c'è questa mia amica a scuola Ok Io sono andata a scuola Di questa mia amica Per vedere se lei uscisse Perché sapevo che usciva Più tardi del solito E fortunatamente Dopo due ore Di aspettare sotto la pioggia È arrivata E mi ha detto Sì ma cosa ci fai qua E io no Non voglio mai più tornare a casa Io da oggi in poi Io starò a casa tua E lei mi ha effettivamente Portato a casa sua Appena io arrivo a casa sua Metto a caricare il telefono E mi arriva una chiamata Da 1-0-3-3-1 Io stupidamente Essendo piccola Non potevo immaginarmi Che Ti ricordi ancora il numero Cioè 0-0-3-3-1 E dico ma chi è? Faccio pronto E fanno Sì siamo alla questura E faccio no E ho detto no E ho attaccato E ho detto no Non rispondo Però ovviamente Cioè ti localizzano In un secondo Ah solo di là? Eh sì Cavolo E mi hanno portato in questura Davanti E io mi ricordo che in questura C'era mia mamma e mia nonna Cioè loro come sono stati con te? Gentili? Reazione? No vabbè La mia reazione all'inizio era Io non me ne vado da questa casa Poi ovviamente Cioè arrivata in quel momento Non potevo andare Cioè non potevo rimanere Era in un punto di non ritorno Esatto Poi mia mamma ha chiamato La mamma di questa mia amica Gli ha detto ma cosa ci fa qua? Cioè tutto un casino Storia Sono andata in questura E mia madre piangeva di rotto E io Cioè adesso se ci penso Ti rendi conto del panico Tantissimo E io eppure davanti a loro Cioè ero con le gambe stravaccate Con la cicca in bocca Che rispondeva male ai carabinieri Poker face proprio Cioè io mi guardo adesso E mi dico Cioè io mi credevo pure magari figa Così a fare così Però quello secondo me Ti pure è struttura Per avere quel carattere Che ti porta a fare Ho capito Ma è proprio anche Proprio maleducazione quella Un po' l'età Guarda No lì veramente E poi lì mi ricordo Che il mio periodo Cioè è iniziato Il periodo di molto scontro Con mia mamma E purtroppo È stato così per qualche mese Poi fortunatamente Abbiamo cominciato a capirci E quindi questi avvenimenti Sono venuti meno diciamo E poi c'è stato anche Il periodo in cui Mi sono scontrata con mio papà Io ho la fortuna Di avere anche un papà Comunque che mi vuole molto bene Con cui andiamo molto d'accordo Perché mi capita spesso Di sentire storie di mie amiche Che non hanno un papà presente Invece lui è molto presente Ed è presente anche in famiglia Perché quel messaggio Che mi ha mandato Mi ha fatto capire ieri Che è presente anche Nelle scelte di tuo fratello Ho immaginato Ho immaginato bene È molto molto presente Infatti quel messaggio Che ti ho mandato Era perché lui Vuole mandare Lui ha fatto la boccone Mio papà E vuole mandare anche Mio fratello Ha fatto la boccone E quindi però può fare L'università Ok Non mi chiedere Loro ti hanno sostenuta Durante la tua gradianza Eh allora Mia mamma Cioè chi l'ha detto per prima Intanto Papà o mamma Mamma Però ti parlo prima Di mio papà Perché quando io Sono rimasta incinta È stato il periodo In cui io non mi parlavo Con mio papà Ok Perché c'è stato anche Qualche mese In cui io con mio papà Non mi sono parlata Perché io prendevo Delle scelte Che a lui non piacevano Eccetera Quindi c'è stato Questo periodo Un attimo di down Tra di noi Però devo dire È che la La gravidanza Comunque La scoperta Di un bimbo Comunque che sarebbe Su mio figlio Su un nipote Eccetera Ha riappacificato tutti Cioè ha riappacificato Me e mio papà E siamo tornati Comunque come eravamo Tre mesi prima Nel senso Super vicini Super amorevoli Eccetera Ha riappacificato magari Anche il mio rapporto Con il compagno di mamma Che io con il compagno di mamma Ho sempre avuto Un rapporto molto Non so come spiegare Tipo sbatti Ma è da tanto Che loro Stanno insieme Stanno sette anni Però io per quasi sei anni Io non lo potevo vedere Perché Non so Ho sempre avuto questa cosa Di tanta protezione Nei confronti di mia mamma E quindi Non mi stava bene Poi però Crescendo ovviamente Ho riconosciuto i miei sbagli Anche qua E anche questa cosa Del bambino Ci ha riavvicinato tanto E quindi Io mi sono anche dovuta Anche dovuto fare due passi indietro E dire Hai ragione Era una bambina Comunque era un adolescente Che giustamente Pensava di poter comandare Su sua mamma E mi dispiace di essere stata Molto spesso provocativa Quindi Tiago ha fatto un po' Raccollante Tantissimo Su tantissimi rapporti Quindi questo sì Mio papà all'inizio Ovviamente non l'ha presa benissimo Com'è stata la reazione infatti Allora mia mamma Ce l'ho su TikTok La reazione Perché avevo fatto un video Sì Avevo messo sotto Una canzone di Lisa A modo tuo Sì E quel video Ha fatto tipo Un milione e mezzo di like C'è roba incredibile In che senso Però È piaciuto tanto Perché comunque Era molto molto spontaneo Cioè io le ho letto Proprio con quella lettera Che io ci ho messo Dieci ore per scrivere E quindi è stato Scioccante per lei Chiaramente Però L'ha presa subito molto bene Quindi subito dall'inizio Mi ha portato a tutte le visite Mi ha accompagnato ovunque Io Cioè avrò comunque per sempre Ricordo che io ho partorito Stringendo la mano a mia mamma Quindi è proprio stato Sì Da sempre E poi mio papà All'inizio ovviamente mi ha detto Sei sicura Sei sicura di voler accettare questa cosa Ricordati che la tua vita Cambierà per sempre Eccetera Ovviamente avendo due figli Lo sa meglio di me Però poi dal momento in cui Gli ho detto io sono sicura Non mi ha mai abbandonato Ma è vero che una donna Inizia a sentirsi madre Nel momento in cui Scopre di essere incinta Sì sicuramente Anche perché Tante cose Cioè tu cambi già La tua vita Nel momento in cui Sei in gravidanza Cioè magari Se fumi Smetti di fumare Se mangi Sempre sushi Smetti di mangiare sushi Se tante abitudini Se tante abitudini Le cambi E magari facevo molto spesso Serata in gravidanza Non è che potevo Non certo E poi soprattutto L'alcol non si tocca Non si tocca Per proprio zero Tu non hai mai 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 Io ho smesso anche di fumare Anche se Molte ginecologhe Dicono È meglio Fumare meno Che non fumare Per un fatto di dipendenza Davvero? Lo sapete che Un pediatra Con cui ho parlato Vedete perché Non lo so Mi ha detto questa cosa Che adesso non so Se è scientificamente provata Quindi ragazzi Se nel caso Tagliate Che le emozioni Che si provano Durante il periodo di gravidanza Segnano il carattere Del figlio Banalmente Se la mamma È una persona Molto ansiosa Cioè molte volte Forse sono anche Delle risposte Che si cerca di dare Se la mamma È una persona Che nel periodo di gravidanza Soffre Perché si sta lasciando Oppure perché C'è un lutto Perché non lo vuole No lo vuole O è ansiosa Il figlio Avrà come Tendenza caratteriale Questa cosa qui Quando mi ha detto Questa cosa Diciamo che a me Mi ha un po' colpito Perché mi sembra Abbastanza forte Quindi vi invito a tutti Non criticatemi Ma scoprite anche voi Se è vero Per me è un po' Potrebbe essere vero Sì me l'ha detto Questo pediatra Del mio paese Non so quanto è affidabile Come anche se Nel momento in cui Al latte Devi stare molto tranquilla Perché altrimenti Il latte diventa velenoso Per il bambino Esistono tutte ste leggende Non le ho mai sentite Sì che comunque Quando al latte Devi stare molto tranquilla Non devi urlare Litigare con qualcuno Perché altrimenti Il latte Può diventare veramente Venenoso E fa divenire le coliche Ma di pancia Ma anche perché Forse per i nervi Quindi si Non so È una roba chimica Incredibile Invece avevo una domanda Sofì Tu hai mai avuto Rapporti con le droghe? O Mi specifico la domanda Sei mai stata A contatto con persone Per cui tu hai detto Ok è meglio Che faccio un passo indietro Che qua posso cadere in questo Soprattutto nei tuoi momenti Di fragilità Allora Io contatti con le droghe No Nel senso che non ho mai Fatto nient'altro Se non fumarsi le canne Ok Però io ho smesso Di fumarmi le canne Comunque Tre anni fa Una roba del genere Perché Una volta sono andata In disconnessione Celebrale Per una canna Quindi ho smesso Di persone Ti vogliono Ti vogliono attorno È chiaro che potrebbe esserci No Non dico quella tentazione Perché se sei una persona Ferma non lo fai Però di persone Che comunque Ti cominciano a dire No allora Se mi è capitato Magari che mi offrissero qualcosa Però io ho sempre avuto questa Non so Non se potremmo chiamarla fortuna Io ho il terrore delle droghe Cioè per me A me fanno veramente paura Le droghe Nel senso Magari mi dicono Però i funghetti Sono divertentissimi Per dirti Non hai il controllo sul tuo corpo Esatto Però magari mi dicono Magari la cocaina no L'eroina no Però i funghetti Ti fanno divertire Queste due ore Cioè a me mette Talmente tanta ansia Il fatto che io Potessi fare qualsiasi cosa Cioè potrei fare qualsiasi cosa In quel momento Che non ce la farei mai No prima di passare Poi all'altro argomento Questa cosa te l'ho chiesta Perché io ho avuto Un mio carissimo amico Con cui ho vissuto Per tanto tempo Io vengo da Sora Te lo dicevo prima Che è un paesino molto piccolo Dove non ci sono tante speranze Ma detto così È sempre no Una forma di vittimismo Ma in realtà Non c'è nulla Pensa che nel nostro paese Non c'è una discoteca C'è in un paese Più vicino Quindi diciamo Ti devo dire Ho conosciuto ragazzi Che si sono rifugiati No? Un po' in questa compagnia Con le sostanze Avevo un amico Intelligentissimo a mio avviso Forse è uno dei più intelligenti Che abbia mai conosciuto Che proprio in età prematura Ha iniziato Ad entrare in questo vortice Inizialmente come divertimento Come figo Della comunità Perché poi quando sei In un paese piccolo Non dico il tossico Però il ragazzo Che fa qualcosa di trasgressivo Attira Poi è anche più facile Secondo me drogarsi Quando nasci in un paesino Magari sperduto Sì ma che poi non dipende Neanche dal benessere economico No Assolutamente Assolutamente Anzi Conosco tanta gente Molto benestante Che anzi Spende i propri soldi Dato che ha tante possibilità In droghe Di qualsiasi tipo E noi dicevo Concludevo dicendo che Questo mio amico Ha poi cominciato Ad interrompere i rapporti Perché il problema Per me Non è la sostanza in sé Perché un tiro di canna O anche L'uso di una Di cocaina Una volta In realtà Non ti fa cambiare Ma no Certo Il problema è quando Tu vivi per la droga Cioè quindi Il tuo primo pensiero È quello Dopo un po' Però specifichiamo che anche Una botta di cocaina Non va fatta Perché poi Se fate la seconda La terza La quarta No certo Infatti Chiariamo questo punto Io non voglio Volevo semplicemente dire Che questo mio amico Ecco Chiarisco mi diceva Ma va Ma una volta Che succede Il problema è che Tu cominci Poi a vivere Quella dipendenza E in realtà La droga non ti sta cambiando In termini fisici Ma ti sta cambiando Perché tu stai vivendo Per quella roba lì Quindi tutti i tuoi rapporti Banalmente Quando non hai molti soldi Se devi scegliere Tra Uscire con gli amici Comprarti un vestito Eccetera Ai 50 euro Ti cambia la proiezione di vita Questo volevo dire Infatti poi Insomma Forse mi sono spiegato male Ma certo Non drogatevi Anche perché Non ho mai toccato Una sostanza stupefacente No ma poi Io penso che in generale Le droghe Come anche l'alcol Le sigarette Siano una forma di riempitivo Cioè tu vai a riempire un vuoto Quindi Chiaramente c'è una depressione latente Poi Che vai a riempire Drogandoti Ma poi non serve Nel senso Se ti bevi quel drink Una sera O anche due Tre Quello che vuoi È ok Però Anche soltanto Ma se io mi faccio Una botta di cocaina Una volta a settimana Sì ma quella volta a settimana Poi Cioè non è come l'alcol L'alcol sì Ovviamente non bisogna abusare Nemmeno di alcol Assolutamente Però sono delle cose Molto diverse Cioè nel senso Molti dicono No che l'alcol È la droga peggiore Per me non è vero No Non è vero Perché l'alcol comunque Francia non sei d'accordo Lì dietro Poi me lo spieghi dopo Perché in realtà Io sono molto Voglio capire questa cosa qua No Secondo me invece Se tu ti fai anche Ti bevi un drink a sera Cioè Non penso Ci succeda chissà che cosa Ma se tu ti fai Una striscia a sera Secondo me Alla settima sera Vuoi fartene due a sera Capito? Sì probabilmente C'è un problema fisiologico Credo perché non l'ho mai provato Però provi quell'app incredibile Magari quando arriva Il momento di down Sei saturato Il momento di normalità Certo Hai ancora voglia di provare Però è la stessa cosa Che secondo me Non va magari Cioè l'alcolismo comunque Nel momento in cui sei in down Che ti fai Dieci shot Vabbè chiaro L'eccesso di tutto Però paragonare Diciamo un cocktail A una striscia di cocaina Credo che sia un problema Passiamo all'ultimo argomento Prima dei giochini Vai Che è l'ambito business Perché ho sentito Con Grimbaud Che in qualche modo Si è parlato anche di cifre No? E ti ha chiesto Se non erro Sei insomma Fatturato Più di 100.000 euro All'inizio dell'anno Allora io Ti rifaccio la domanda Secondo te Un influencer come te Quindi ti sto modificando La domanda A quanto può arrivare In un anno? Ti sei mai fissata A un obiettivo A cui sei arrivata? No 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 Mi sono mai fissata A nessun obiettivo Però ho visto Gente che magari Ha i miei stessi Segui Cioè follower Diciamo Magari comunque Il mio stesso seguito Che è arrivata A cifre molto più alte Perché comunque Cioè la domanda è stata Hai superato I 100.000 euro Che mi hai chiesto Hai superato il milione Se mi avessi chiesto Hai superato il milione Avrei detto di no Però comunque Ho superato Anche cifre più alte Però A parte che a me Non fa impazzire Parlare dei soldi Perché la mia mamma Dice che non va bene E quindi No è vero Infatti Non è bello Dicono che non è bello Ed è vero Non è bello Perché molto spesso Magari ho ricevuto Tante critiche Su questo aspetto Ci sta Perché molto spesso Magari Soprattutto in Italia Molti lavori Sono No Cioè in realtà È che molti lavori Sono Sottopagati Esatto Hai ragione E far vedere Magari sbattergli in faccia Una realtà Che è purtroppo realtà A questa gente Non è bello No no Non è assolutamente bello Però purtroppo Non possiamo farci Neanche niente noi Perché comunque Alla fine È il nostro lavoro Ci piace Ma più che sbattere Capire che Cioè Io quello che volevo Sottolineare Con questa domanda E approfondisco È che È un lavoro Che molte volte Posso dire Non dico il nostro Dico il tuo È sottovalutato Cioè è vero Che ci sono dei lavori Che sono sottopagati Ed infatti questo tema Va affrontato Non in questa sede Però Cavolo Non è riconosciuto Il valore che noi diamo Anche il podcast È un servizio È un servizio di intrattenimento È intrattenimento Come la televisione È la nuova tv Vogliamo dire È la nuova tv Ma anche la radio Per dire Influenza È un servizio di intrattenimento Perché mia sorella Quando vede un tuo video Che racconti Il tuo viaggio in crociera Che poi approfondito Anche con Gala Che avete fatto Non so che cosa Quello è intrattenimento Perché mia sorella Piuttosto che andare A giocare a carte con l'amica Sta vedendo un video di Sofia Quindi In realtà Che ci sia un business dietro Mi sembra Una cosa normalissima Ovviamente poi Secondo me Il punto a cui devi arrivare È creare qualcosa di tuo Tipo nel tuo caso Hai creato il tuo podcast Capito Nel caso Cioè diversificare Esatto Secondo me Ovviamente poi devi arrivare a Però nel frattempo L'intrattenimento in sé Anche secondo me Quello è un lavoro A tutti gli effetti Certo Perché come Se è andata a dire A un comico Ok Che il suo non è un lavoro Non è vero E sono ricchissimi Io ne conosco un tipo È ricchissimo Ma infatti Ce ne sono tanti Secondo me Ma come Cioè nel senso Non è che tu devi fare Per forza il chirurgo Per lavorare Se non fai il chirurgo Allora non è un lavoro Se non fai l'operaio Allora non è un lavoro Cioè la gente Sarebbe più contenta Se andassi a lavorare Alla cassa dell'Estelunga Sinceramente Ma io di questo Non sono d'accordo Infatti tutte queste domande Che ti faremo Nell'ambito business Libera di rispondere Come vuoi Avevo una domanda Prima poi Ma La tua prima sponsor Ok Comunque I tuoi primi incassi Te li ricordi? Allora Virgola Nel senso che io ho cominciato Ti ripeto Quando ero molto piccola Quindi le mie prime sponsor Sono state Che tipo avevo 16 anni Quindi ero Ero piccola Ma anche a livello social Ero molto piccola Cioè nel senso Avevo 50.000 follower Su Instagram Che ad oggi 50.000 follower Su Instagram Se li sai gestire bene Puoi gestirli bene Ma per me Avendone un milione e mezzo È sicuramente diverso Capito? E quindi mi ricordo Una sponsor che mi ricordo È stato Un video YouTube E mi ricordo Mi avevano pagato 200 euro Ma io ero felicissima Vabbè 200 euro per un video Eh lo so Però tipo ad oggi Spiccioli Capito? Cioè no no Spiccioli no Perché è brutto dire Spiccioli In senso Ogni euro Sono grata per ogni euro Però in generale Per il personaggio Che sono oggi Non vengo retribuita E voglio in qualche modo Chiedere una sponsorizzazione A Sofia Crisafulli Le cifre sono molto più alte Sono molto più alte Esatto Ma questo vale per me Come vale per quale Influencer Capito? Più cresci E più puoi chiedere Certo Ci sta Allora faccio l'ultima domanda Vai Riesci a vivere completamente in autonomia Con il lavoro che fai? Sì Da 18 anni Da quando ho 18 anni Io sono andata a vivere da sola Il 10 ottobre del 2022 Che avevo 18 anni quel giorno Ho preso le mie chiavi di casa E sono andata a vivere da sola Wow Poi ovviamente Devo badare anche a mio figlio Quindi vado per due Cazzo Ragazzi Io farei un applauso Allora veramente Prima di fare giochi Io ti faccio Scusami Ti faccio i complimenti Perché noi non ci siamo conosciuti Poi approfonditamente Guarda Veramente secondo me Tanto da comunicare Grazie Non ho Sei veramente molto diversa Come persona Rispetto a quella A quella che fanno passare gli altri Direi A quella che fanno passare gli altri Pensavo a quella che mi mostrava Perché io sono molto No ma il problema è che A volte Cioè sono talmente tanti Quelli che vogliono sovrastare l'immagine Che quella tua immagine È poi costruita da altri Eh lo so purtroppo è così Allora abbiamo la nostra bellissima Ampolla golosa Ok Ricca di domande Succulente Me la porti per favore Grazie Grazie Niente tu dovrai pescarne Una a caso E leggerla E rispondere Obbligatoriamente Ah ok Perfetto Può andarti bene Può andarti malissimo Speriamo mi vada bene Dai Una Sì Una vai Che ansia In realtà io non me le ricordo tutte Anche se le abbiamo scritte insieme Ah ma c'è anche una caramella Vai prendi anche una caramella Te la porti come ricordo Esatto Che paura No ma secondo me sono tranquilla Vedi Ah No Pesante Chi è la persona che odi di più E quella che ami di più Cioè su quella che amo di più Mio figlio Quella che odio di più Non mi dire nessuno Non ci credo No 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 Allora L'odio è un sentimento pesante Ok Quindi Allora facciamo così Mi dici Quella che odi di più E quella che ti sa più sul cazzo Che sono due cose Che odio Cioè veramente Odio di più Chi posso odiare Proprio odiare Cioè perché odiare Secondo me è una cosa Talmente brutta Che vuol dire Che ti svegli la mattina E dici Mamma mia Io questa persona la odio Vivo male Perché la odio Invece io non vivo male Io vivo benissimo Però ci sono tante persone Che mi stanno talmente Sul cazzo Che mi dà molto fastidio Vederle Sia sui social Che dal vivo E io penso che Due nomi Siano ben riconosciuti Ai social Da parte mia Ok Forse li hai capiti Allora facciamo così Se questo nome Nel prossimo gioco In queste carte Ok Tu mi dici ok Quel nome lì Ok va bene Ci stiamo Ok dai Bella risposta Allora Marti se per favore Mi togli l'ampolla Tu dai un tuo giudizio Siccome Sarei libera di dire Il nome o meno Come sono convinta Che ci sarà quella persona Che odio qua dentro Convintissima Sono convintissima Mamma mia Potrai fare il nome Se vuoi farlo Ok Se non vuoi farlo Dai soltanto il tuo giudizio Su quella persona Vai pesca la prima carta E faccela vedere Che se no non riesco Ora anche a capire Ok Il Masteo Ok Io ho già detto prima Quello che penso Il Masteo E se un giorno Vorrà conoscermi E vedere che Non sono una persona Che pensa che io sia Sono ben contenta Però non Non lo odio Non l'ho mai seguito Quindi non so effettivamente Che cosa porti Effettivamente So che è un po' comico Ma del resto Non so niente Bello Andiamo avanti Fai vedere se ho indovinato Sì Vediamo Sì Eh l'ho detto Non so cosa dire Non è una persona Che mi piace L'ho già detto Migliaia di volte Sui social Grazie a Dio Non l'ho mai conosciuto E non mi interessa Conoscerla Sta per le sue E io per le mie Hai già detto tanto Quindi hai ragione Vai avanti Corin Corinpino Corinpino Le voglio un bene Dell'anima È veramente Una bellissima ragazza Molto simpatica E genuina Anche lei Secondo me Viene passato Sui social Un pensiero Sbagliato Non so mi spiegare Perché la gente Magari vede solo Tipo ricchezza Soldi Eccetera E Corinna è tutt'altro Non è solo quello Assolutamente Però questo è un problema Italiano cavolo Cioè se hai soldi Ti devo massacrare Però io vi dico Che è una bellissima Persona Ma è bene Dell'anima Bello Siva Allora Su di lui Penso che Sia una brava persona Non abbiamo mai Approfondito tanto Il nostro rapporto Diciamola così Però comunque Avendo vissuto un po' Dietro le quinte Di quel mondo Mi dispiace Per la situazione Che c'è adesso E come sempre Vivendo ancora Un po' intorno A quella gente Spero che le cose Si possano Risolverà più presto Perché Magari sono state Dette anche Tante cose Sbagliate sul suo nome E sicuramente Ognuno Avrà commesso I propri errori Però Non condannate nessuno Perché non conoscete Le persone Io Scusami Faccio questa domanda Credo che Agostino Abbia un po' subito Questa cosa Tu Ti sei sentita Ci sei stata vicino Hai affrontato la cosa Io non ci ero vicino Esattamente Nel momento in cui È successo il tutto Però poi Abbiamo parlato Sicuramente di questa cosa E Cioè alla fine Lo sentono Nel senso Ci parlano Ancora quando Lui è dentro Quindi Sicuramente Adesso stanno tutti Tanto lavorando Per farlo uscire Il prima possibile Per far sì Che le cose Si sistemino Gli amici Insomma Ovviamente Fanno di tutto Ma tu Ma tu però Le hai cercate bene Eh certo Cioè le hai proprio Tutte e due le azzeccate Eh cazzo Devo fare anche i miei interessi Allora Allora L'ultima parte del podcast Posta capirlo È semplicemente una cosa È semplicemente una cosa Che mi ha fatto un torto Diciamo un po' così Mi sta sul cazzo Finisce lì Ok Questa persona invece C'è stata un'amicizia dietro Mi sono confidata Siamo state amiche Siamo stati insieme Tanto tempo Comunque abbiamo Convissuto Cioè non Convissuto insieme Però comunque abbiamo Convissuto varie giornate Insieme eccetera Evate proprio amiche no? Esatto molto E ci sono state tante cose Che ha fatto nei miei confronti Tra cui una Pubblicamente Che non mi sono piaciute per niente E che secondo me Sono state fatte solo Esclusivamente per un tornaconto Sui social Che per me è la cosa più squalida Che puoi fare Dopo un'amicizia Perché comunque Io ho terminato tante amicizie Ma non mi sono mai permessa Di sfruttarle Sì Sfruttarle Sfruttarle sui social Quindi per me è una persona Inutile E ci sono state Più persone Che ti hanno deluso Sui social O persone che invece Sei stata contenta Di aver conosciuto In questo percorso Più che sui social Diciamo che non Cioè Persone sui social Penso che solo Questa persona Mi abbia deluso Ok Poi con altre persone Magari ho chiuso i rapporti Con altre persone Magari non mi ci parlo più Eccetera Però una delusione così Mi è dispiaciuta tanto Appunto perché eravamo amiche Però del resto Guarda ti assicuro Io ho imparato Nella mia vita Che ho bisogno Solo di positività E di felicità E delle persone negative Non mi devono stare vicino Bello Quindi Ragazzi Anzi a volte penso che sia anche Peggio una delusione In amicizia Che in amore Molto Cioè in amicizia Alla fine l'amicizia È tipo un amore Senza sesso Quindi Cioè Vabbè pazienza Ognuno per le sue Allora Io Ti lascio Un pensiero Questo non lo fa nessuno Che è La nostra tazza Del paese dei barocchi Sai perché Sai perché Sì puoi aprirla Ti volevo mettere lo stiger Così te lo tieni Aspetta Ah Sai perché ci tengo molto Perché In realtà Il progetto Il paese dei barocchi È una cosa A cui ho pensato Tantissimo Tempo fa Più o meno Quando ho iniziato Volevo fare questa cosa E Grazie insomma Al team Del podcast Abbiamo poi realizzato E Questo logo È stato fatto a mano Mi piace molto È fighissimo Fighissimo A me piace questa roba Troppo simpatico Ma l'hai inventato tu il nome? Il paese dei barocchi Sì Figo eh Fighissimo E niente Questa è tua Te la puoi portare Così ti ricorderai Di noi Grazie Sofia Per l'umiltà Grazie mille Per la gentilezza E per essere quella che sei Grazie Grazie Ciao 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 Wow ragazzi